Le mani che compiono il disegno, l'indegno, con l'amore, con l'azione, con la manifestazione. Sì, perché tu sei mani, tu sei festa, tu sei azione Roma, che pennella l'umore di uno, di tanti, rumore di questa situazione. Sì, tu azione, conseguente ad una reazione, di disagio, di nonaggio, di plagio, di oppressione, di rumore, sonore che avvali dell'onore per riscattarmi da questo ricattarmi. Non posso abbattermi, devo batterti, devo toglierti le armi e tu, tu devi aiutarmi e non dirmi di calmarmi. Devo mantenere la calma ma non imbambolarmi, con un occhio critico, un ironico, devo ribellarmi, appassionarmi, devo entrare nel merito ma non rimanere ferito. Non devo puntarti il dito, devo essere fornito e dimostrare che hai fallito, senza rancore, riuscirci mettendo da parte la parte. Devo mettere amore, essere un sentore, captare, coltivare e donarti come un fiore. Se i sogni sono fatti per rimanere tali, meglio toccare con mano la bellezza dei paesaggi, in cui mi oriento dei suoi passaggi. E si addolcisce il viso tra la morsa chiuso o aperta di chi decide di separare o di fondere. Fondere sole e terra come in un sorriso, il tuo sorriso. Archeologia di memoria e desiderio proibito di un mondo scomparso. Archeologia di memoria e desiderio proibito di un luogo.